AAAAAAAA MA BORCHIO MONTANA O DIO O DIO MIGO O DIO MIGO O DIO BELLA VECCHI TRAPANI BELLA VECCHI TRAPANI BELLA VECCHI TRAPANI BELLA VECCHI TRAPANI 3 VOLTE DALLA CURVA SI ALCERÀ Oggi siamo qui per scartare questo pack opening Per scartare il pack opening CERCO Il pack opening non c'è più Facciamo un altro video Perchè oggi ci sono gli if Che sono appena usciti E c'è Come potete ben vedere Non la sfida della cascadia Ma gli sd s Cavani e Agüero Cavani e Agüero ragazzi Umbels anche Non è Umbels Ma è Subodich Va bene questo Noi abbiamo deciso di mettere un po' di pepe Su questo pack opening Ovvero Torna qua su Non farei Torna qua Abbiamo deciso di mettere un po' di pepe Perchè se non troviamo un if Noi scarteremo questa persona qua Non Diego Costa No Perchè ci ordiniamo per un altro pack opening Ma scarteremo Ibraimovic Attenzione Ma tutti i soldi però A merda No Eh sì C'è un 6 e 20 Oh Oh Ma che è sto bug Oh Ma che cazzo Se mangiano i pacchetti Fammi capire No no Rega che cos'è Eccoli Sì Allora In verità Erner GAB Skurter E tante cose Barcellona Anche delibile Allora vediamo se adesso ci fa scartare Se no cominciamo a scartare manette e poi ed entramo eh Qua tutti quanti Sarebbe Oh ma a me fai scartare un pacchetto pure a me Vedete se scarta è una prova Ok Sembra essere andato Oddio Shishkin Shishish Giocatore per Frito Renzi Shishish Si scarta la Oddio che palle Tutti insieme Sembra che Ilton Bellissimo Pierluigi Pardo Giusto mia però eh Sì No Ehm 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 Sembra che tu abbia già degli oggetti dovevi occuparti Si osservo Ma io ho fatto giro per niente quindi Eh Lo rifallo adesso? No Non giro la testa No Dai Gira 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 Oh porco due Fazio Ma che sei scemo Fabio Fazio Era allenatore mio Fazio Giorgi Aspetta che ha mutato una botta assurda Aiaiaia Ha dato un boom Aiaiaia Tipo calcio rodante Aiaia mi fai fa Mi fai scartare Oh pacchetto Oro Riscatta pacchetto gratis Tutto veramente buggato Vai gira 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 Oh coche Che non è coche dell'Atletico A big coke A big coke A big coke Vai apri ancora Apri ancora Aggiornamento catalogo Si Ancora In serie Non finisce più Aggiornamento catalogo No No Questo te lo apre Tre pacchetti ragazzi eh Oh Ciavi Incredibile Al momento Hai parecchio che vorrei iniziare con 35 test Ah va bene ok Catalogo Oh Che Incredibile C'è pure il diabete Guarda come ride Si C'è il diabete Anche Olic Mamma mia Di mani xiavi Prima di xiavi Prima di xiavi Prima di xiavi Prima di xiavi Cioè Trek xiavi sto Trek xiavi Ma l'arte Do sono andati a fine Scusa Boh Ne sono a fine Non ci stanno Si ma se sta cosa succede Che tipo che trovo Sono andati a fine Come si chiama No lo blimbo Limbo Oddio No Stai a biscare Oh Fa morchio Cioè ti prego SI NON SI STALE MA CHIATO SI 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 ma vabbè però oddio mio oddio no vabbè regà il problema io mi ce l'ho scarto comunque a me prega un cazzo ma si ma che cazzo ci prega oddio ma no scusa fanno pure i giocati amici si fanno questi cazzi cioè no no devo vedere il segreto 68 giocatori totali che dici cerca ora dove sta? hai mandato tutto al club? si si sei sicuro? si si esci rientra fa cazzate eh dai per una volta che troviamo qualcuno per favore si 122 122 si eh c'è tri ma che ca no è tutto buggato ci sta comunque dai vabbè comunque l'abbiamo trovato dai ci sta ci sta regà mamma mia regà è solo da riuscire a rientrare mamma mia regà ci abbiamo trovato Messi porca puttana volevamo scartare i bri abbiamo trovato Messi incredibile noo regà eh questi quasi i primi che trovavano eh sono quelli che già c'erano ma si eccolo eccolo si che bello che bello che bello porca puttana quanto si è fatta fanno foto no no aspetta famosa insieme porca puttana comunque ragazzi dobbiamo lasciare 10.000 like per Messi per per Messi cazzo porca puttana e quindi noi ci becchiamo al prossimo ragazzi 10.000 like qua sotto c'è instagram e potrete vedere il nostro selfie con Messi bella ciao ciao ciao